mister l'analisi di questa partita parte da quello che di buono avete fatto per tutto il match o dal rammarico di non aver portato come forse aveste meritato la gara al quinto set ma innanzitutto è una partita che vale per la classifica soprattutto per la coppa italia quindi diciamo il rammarico c'è perché insomma un punticino con quel 37 lì magari potevamo strapparlo e questo qui l'analisi diciamo del fatto poi dopo diciamo di un gioco discreto dove a un certo punto c'è stata poca continuità tecnica imbattuta e dopo con questa squadra qua che all'interno del set garantisce dei brecchi ostanti con quei due battitori lì poi non è detto che gli altri non li fanno perché comunque sono buoni battitori insomma a volte sembri sempre in affanno però i ragazzi sono stati e ovvio che guardando palla palla su palla qualche ripeto qualche rimpianto c'è però insomma sapevamo che come doveva fare doveva fare la partita penso che i ragazzi anzi sono convinto che i ragazzi l'abbiano interpretata in modo giusto